Franciacotta Padosé Riserva 2004 è stato 5 anni in questa cantina a contatto con i propri lieviti è frutto di chardonnay, pino bianco e pino nero in parte fermentato in barrique ed è frutto anche della notevole esperienza che l'azienda Mosnell si è creata in anni di lavorazione di queste uve per produrre il millesimato dalla vendemmia 2004 appunto la Franciacotta ha introdotto una Franciacotta Riserva quindi una tipologia nuova che deve fare almeno 60 mesi sui lieviti naturalmente la nostra azienda che ama i prodotti secchi l'ha voluto in versione Padosé un'altra cosa che abbiamo voluto è vestirlo con un'etichetta d'eccezione e per questo abbiamo fatto un progetto che vi consiglio di approfondire